5, 6, 7, 8 Ah volevo dirti una cosa, l'altro giorno quando ti ho visto fare tipo picche arabesche così non guardarti allo specchio perché secondo me rovina un po' la linea poi si allunghi anche il piede, pensa proprio allo svirgolo cioè al fatto che debba andare un pochino più verso l'alto cioè tipo anche adesso no? allunga il piede, pensa proprio di pensare al suo, alle nuvole, al cielo cioè deve essere tutta una linea unica con te stessa Stendi il piede però, stendilo Michi, hai le mezze per me a prestarmi? Certo Vedi un po' Tim ma le mezze che tu ho prestato? Le ridai o no? Ma lo spettacolo è fra un'ora Ottimo, ce l'hai una tutta per casa da prestarmi? Sì, sì, sì Poi te la porto a breve tempo, grazie Mickey Ma la mia tutta Non è che uno può darti le cose un attimo dopo che gliele hai prestate cioè le persone devono anche usarne le cose cioè non è che passa tutto sto tempo Mickey, preparati che adesso tocca a noi Ma cosa stai dicendo? Non c'è mai stato un noi Ma io ho bisogno di te Non posso da sola Tu non dovresti aver bisogno di nessuno Dovresti stare bene da sola con te stessa Dammi la mano No, basta, lasciami i miei spazi Ho bisogno di respirare adesso Mickey, guarda che è una coreografia, ho bisogno di te veramente Non passa due Dobbiamo ballare Buongiorno Buongiorno Ho dormito bene? Dai, dai, oggi lezione leggera Non ci sono anche prove, su Oh tizia, mica del odorante che l'ho dimenticato oggi No Ti ricordi quella volta, 17 anni fa Avevamo 8 anni Era il saggio di Natale E tu mi hai lasciato la mano nel cerchio degli chassè Sono sentito abbandonato Davanti a tutta quella gente E non dire che è stata colpa del sudore Sì? Ciao tizio, ma oggi non vieni? Eh no, ti ricordi che non posso venire Perché ieri mi sono fatto male all'unghia Ah sì, certo Eh sì, e poi a quanto pare ho scoperto di avere questa malattia rarissima, genetica Che si chiama iperossaluria primitiva Praticamente caratterizzata da una eccessiva produzione endogena Io ho salato nell'urina, c'è una roba Ma scusa, chi te l'ha detto? No, no, guarda, che ho visto su Google Cioè, ho cercato, Google me l'ha detto Braccio destro Ma va, ma non era così, era così Braccio sinistro Ma no, mi ha chiesto, l'hai detto ieri Braccio destro Ma no, era il braccio sinistro che fa il giro Sì, era il braccio sinistro Era il sinistro? Ah, ok Cosa ti ho detto? Braccio sinistro E non mi ascolta Sì, sti, bella vergine Proprio si vede, si vede Sì, sti, bella vergine Ma tu sei malato? Ma cosa d'occhio di aroma? Ma lì si deve fare, Shinai Un po' di ordine da tua vita Sei proprio della vergine Buo raga, sto pezzo fa schifo Cioè, bisogna trovarsi almeno un'ora prima tutti per provarlo Riusciamo due di Quanto prima? So, alle 10 Eh no, per me no Io dalle 9 e mezza alle 10 ho Pilates Poi dalle 10.03 Dalle 10.08 Devo ritrampacqua Dalle 10.09 Fino alle 10.27 Eh, devo comprare le banane Cinque minuti prima ce la fai ad arrivare E il caffè Dovrò anche controllare lo scontrino Tu non dovresti aver bisogno di nessuno Ti ricordi quella volta di Allora Come inizia Allora